Ciao a tutti, vi propongo una scommessa. Nella bozza di ieri del contratto di governo, uno dei punti riguarda le sanzioni alla Russia e c'è la proposta di toglierle. Anzi, cioè proprio un punto del programma, sono ben convinti di toglierle. E ovviamente in rete ci sono leghisti e grelini che sono assolutamente convinti che questa è la parola data e questo succederà. Ecco, io invece sono pronto a scommettere che l'Italia non toglierà le sanzioni alla Russia. Per quanto, non lo so, magari riescono anche a metterle nel programma di governo, però vedrete che non le toglieranno. Credo sia qui a giugno che ci sarà il prossimo incontro del Consiglio d'Europa per decidere se prolungare le sanzioni. E state tranquilli che l'Italia le prolungherà. Magari diranno noi non le vogliamo, come diceva Renzi, anche Renzi diceva che non le voleva. Però poi alla fine sono sempre state confermate. Ecco, io sono pronto a scommettere, quindi scrivetemi nei commenti se voi invece siete convinti che l'Italia toglierà le sanzioni alla Russia. E questi sono soldi facili da guadagnare. Ci mettiamo d'accordo su quanto scommettere e come. Ecco, per essere sicuri che la scommessa vada a buon fine. Io già mi sento i soldi in tasca, ma forse ve li sentite anche voi. Fatemi sapere. Ciao ciao.